Zaia resta, questo sì, perché devo dirvi che per me è importante come precedente, come referente. L'endorsement che non ti aspetti ha aperto un varco nella politica regionale, facendo saltare sulla sedia lo stesso Arturo Lorenzoni, già vice di Giordani e oggi speaker dell'opposizione a Zaia in consiglio regionale. E stare fatto, spero Giordani corregga il tiro, dice Lorenzoni, nei minuti in cui il governatore ringrazia sempre Giordani per l'onestà intellettuale. Caustico sul sindaco di Padova, Roberto Marcato, ecumenico Alberto Stefani. È la maturazione dell'uomo politico che si rende conto finalmente di essere dalla parte sbagliata e quindi con questa presa di coscienza ovviamente dichiara qual è la sua vera natura, che è quella giusta. Insomma, se lo dice anche Giordani, magari si mette d'accordo anche qualche altro pezzo di centrodestra e votiamo questo terzo mandato, quarto mandato e magari Zaia sarà nuovamente il nostro presidente. Io ne sarei orgoglioso, ne sarei felice e credo che sia anche negli interessi dei Veneti. Il supporto a Zaia di Giordani arriva al termine di una settimana al veleno tra gli alleati del centrodestra proprio sul tema del terzo mandato Contosi che ha stoppato l'ipotesi Zaia Terra. Il gioco delle parti, dice Marcato. È stata una settimana che racconta anche una certa vivacità pre-campagna elettorale delle europee. D'altronde lì ogni partito si gioca la sua partita. È inevitabile che sia così e questo è solo l'antipasto, ne vedremo davvero delle belle, bisogna avere nervi saldi. D'altronde lì ogni partito si gioca la sua partita.